La crisi economica, lo scoppio della guerra in Ucraina, hanno spinto le associazioni dei consumatori a presentare al governo un pacchetto di misure per salvare le tasche delle famiglie e contrastare i rincari dei prezzi al dettaglio e delle bollette che si sono abbattuti sugli italiani. In un'assemblea generale, le medesime associazioni hanno definito un documento unitario con provvedimenti che spaziano dall'energia ai carburanti. Ora, dal governo, attese un segnale tangibile di un maggiore ascolto delle istanze e dei consumatori. In assenza di efficaci provvedimenti, tesi a contrastare speculazioni e rincari dei prezzi e salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie, sottolineano le associazioni, siamo pronte ad organizzare mobilitazioni e proteste in tutta Italia. Le proposte prevedono di liberare il prezzo di elettricità, gas e carburanti dalle speculazioni e dalla volatilità dei mercati. Non applicare l'IVA sulle accise, sui carburanti e contingentarne il carico fiscale alla media europea, avviare una riforma complessiva degli oneri generali di sistema che gravano in bolletta, disporre a una sospensione dei distacchi di energia elettrica e gas, ampliando e migliorando gli accordi per la rateizzazione lunga delle bollette, definire la casistica di morosità incolpevole, allargandola le difficoltà sopravvenute per i nuclei familiari anche ai fini dell'accesso al bonus sociale, prevedere un fondo di sostegno per le fasce meno abbienti, istituire l'albo dei venditori autorizzati ad operare nel settore dell'energia, ad accreditare in base a specifici requisiti, adottare una politica degli acquisti di gas ed energia coordinata e gestita a livello europeo, ampliare le misure di supporto e operare una semplificazione amministrativa per favorire la nascita e la gestione delle comunità energetiche rinnovabili, rafforzare i compiti di sorveglianza e poteri sanzionatori delle autorità indipendenti, attivare presso le prefetture dei comitati territoriali di sorveglianza sui prezzi, infine consultare preventivamente le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per l'assunzione di provvedimenti in materia di prezzi e politica energetica.